No, no, no! Oh, su che canale state qua? Piccini Oh, Daniele, perché non mette quello? Senza radio, raga Perché calcolo ho pagato 25 euro questo coso Ma ce n'è altro questo? Calcola che... Mille Pinocchi Mille Pinocchi Namo che sono partiti Ma io c'ho un amico che... Ma tu questo? Per qua, tutte le viti, questo e qua Questo, 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 questo Questo, questo, questo Stanno a parlare del PTTTV Sono del PTTV Brava Brava Ma chi è il capo squadro? Piccotto, oh! Dai, tutti i scout, su! Dai, faccio io, tutti i scout Tu, ma il capo squadra della squadra del torneo? E allora, che cazzo? Sa fuma! Raga Guarda, ragazzi Ma mi stanno a tirare pure a me Dai, oh! Oh, regà! Luca! Luca! Fa una fata scout con Lorenzo Oh, smette! Lo sai, porca troia! Ha si stupido davvero, eh? Come faccio io? Cia putzana! Ci sta lui, ci sta lui Eh? Ci sta lui, ci sta lui Eh? Con la zona E quando fa fin da gli sparare dai cattici di qua? Per se lì conoscono il tumore Ma no! Guarda, ti ho detto, che cazzo è da questo qua Perchè? Perchè? Perchè se sparo io, sta sentendo quelle città Oh! Ti pericolo qua! C'è così, adesso riprende? capranica portare titti Carlo segui loro, passerò, resta centrale, Marcello Colloni. Non mi devo mettere? Mi sapevo. Hai sentito? Vi conto all'orenzo, c'è un salone di un abito grosso. Bruni. Non mi devo mettere? No. Non mi devo mettere? No. 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 C'è un po' di destra? Aspetta, sono in avanti. C'è un po' che c'è un po' che c'è? Ah, c'è stata una? Grazie. Grazie. Ok, uno morto da loro. Grazie. 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 Grazie.